Scondeva in un piccolo bunker ricavato sopra il cammino della sua abitazione di San Luca il latitante Giuseppe Giorgi, detto Capra, catturato dai carabinieri del reparto operativo coadiuvati dallo squadrone cacciatori. Giorgi, inserito nell'elenco dei cinque latitanti più pericolosi, era ricercato dall'agosto del 1994, quando si rese irreperibile a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ritenuto elemento di spicco della cosca Romeo Stacu, deve scontare 28 anni e 9 mesi di prigione per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Già da diversi giorni i militari sospettavano che Giorgi potesse essere nella sua abitazione seguendo i movimenti dei più stretti congiunti. La scorsa notte è arrivata la certezza, intorno alle 3.30 i carabinieri hanno avviato la perquisizione, poi dopo cinque ore hanno iniziato a rompere le pareti di casa. Solo a quel punto Giorgi si è fatto sentire. Così, dopo aver sbloccato il congegno che consentiva l'apertura del bunker, il 56enne si è fatto ammanettare. Pure di fronte a situazioni come queste, di fortezze che sembravano inaccessibili, ancora una volta soltanto attività di indagini. Nessun confidente è stato utilizzato non solo in questa, ma in tutti gli arresti dei latitanti, almeno da quando io sono procuratore della Repubblica, non un confidente. Consolato Minniti per la CNews24.